benvenuti a biblia la terra dei libri io mauro fornaro sono qui per parlarvi degli abitanti di questa fantastica terra i libri e di coloro che li hanno creati oggi vi parlerò del romanzo di una scrittrice miriam bartolo mucci io sono mia uscito alla fine dello scorso anno il 2022 più precisamente a novembre la scrittrice che ospitiamo oggi come abbiamo detto miriam bartolo mucci è un'autrice nata nel 1985 è cresciuta in ciociaria laureata e specializzata in comunicazione ha sempre avuto la passione della scrittura qualche anno fa miriam si è trovata a intraprendere un percorso di cambiamento esteriore e interiore che l'ha cambiata in maniera profonda e che ha voluto in qualche modo raccontare nel suo primo romanzo io sono mia il libro lo potete acquistare su amazon in formato cartaceo ebook e kindle unlimited ma veniamo a parlare del libro è bastato un semplice tag su instagram e la mia vita è cambiata io sono mia e fino a quel giorno trascorrevo le mie giornate evitando di affrontare la realtà rifugiandomi in un mondo di cibo e fantasia quando io che non mi specchiavo mai ho deciso di guardarmi realmente il mondo mi è crollato addosso ho visto nello specchio una sconosciuta e allo stesso tempo la mia nemica più grande cosa ho fatto ho deciso di rinascere cercando di rendere mia amica quell'immagine nello specchio comprendendola amandola in questo faticoso percorso verso il cambiamento mi sono imbattuta nell'amore vero io e lui ci siamo voluti combattuti rincorsi persi desiderati amati oltre ogni misura e ora una piccola pausa dedicata ai nostri partner siamo monte rosso i colli questo ambiente naturale che si trasforma in ogni stagione semplice e vero siamo padova la sua storia la sua cultura la sua curiosità ed il sapere siamo il veneto con il suo territorio ricco la sua terra la sua sincerità siamo l'italia e le sue sfaccettature che si fondono in uno stile unico e inconfondibile siamo quel che beviamo ordina dallo shop online le nostre birre direttamente a casa tua vieni a scoprirci di persona o visitando il nostro sito www.irrificiomonterosso.it ti aspettiamo bentornati a biblia la terra dei libri vi ricordo di seguire brio radio nei social e magari di iscrivervi al canale youtube avete anche la possibilità di un sostegno libero e volontario con una donazione paypal stiamo parlando del libro della scrittrice miriam bartolo mucci io sono mia un libro estremamente autobiografico frutto di una esperienza che ha vissuto realmente la scrittrice e che ha voluto mettere nero su bianco il libro parla appunto di cambiamento del saper abbattere le barriere del cuore e soprattutto della mente di amore per gli altri ma soprattutto per se stessi vi voglio leggere qualche riga del libro estremamente sensibile onesta e franca guardati allo specchio e sorridi sorridi sempre guardali tutti i tuoi difetti mia e ammirali come il più prezioso trofeo sei imperfetta sì ma sei la cosa più bella che esista sei tu e tanto basta a proposito di biblia la terra dei libri se volete conoscere meglio i miei libri ma anche tutta la mia attività culturale basta cercare mauro fornaro nei social un caro saluto e ora musica e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.